ciao ragazze buonasera a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene allora nuovo video chiacchiericcio che praticamente adesso stavo caricando un video ma non ci riesco perché non so cosa sta succedendo però la mia sd card non quella telefono quella computer e non riesce a esportarla quindi se vediamo un posto a termine o meno perché sono computer non so se capisci ma sono computer e quindi in qualche modo dovrebbero dovrebbe per forza montare il video con un programma non dico molto professionale ma intuitivo speriamo bene perché veramente non se ne può più che ogni volta e provo a esportare un video e mi esce proprio a schifo quindi ci voglio provare a vedere se riesco a montare un video bene non dico tagliarlo ma almeno metterlo in ottima qualità perché non poterò un video che non si vede bene non si capisce nulla bene e via discorrendo nel frattempo ci vediamo dopo che intanto provo apri la finestra aspettate un secondo eccomi qua allora ce l'ho fatta a esportare il video sono riuscita finalmente e nulla adesso dovrei vedere un po quali sono ok forse forse ce l'abbiamo fatta e contiene esportato troppo piccolino in questi vabbè no questo non mi serve tempo qua ma allora devo nominare come faccio qua per nominare che non un'idea volevo nominare questo video in modo che so come si deve allora aggiorna presentazione no non era questo no non è per niente questo boh vabbè questo cosa fa voler questo niente boh vabbè riprovo allora riandiamo qui su faccio tutto quanto movie maker ragazzi già ve lo dico subito perché lo so che non è un bel programmino ma non posso fare altro quindi vabbè ci adattiamo così non è manco questo andiamo bene e niente come ve l'ho capata spero bene se tutti i salmi guardano non riesco a capire quali sono le immagini che ho salvato molto bene fantastico non l'ho rifatto perché non le trovo neanche mannaggia a me che non trovo mai quello che sto cercando questo questo no neanche uffi vediamo se è questa no 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 non è questa non è manco questa non è manco scusate ragazza ma qua c'è una confusione assurda di tutti i video che ho fatto finora andiamo bene no no non è manco questo e allora come diamine faccio io boh aspettate un secondo devo stoppare qui claudio altrimenti mi va vado fuori di testa e non mi sta bene sì allora vediamo un po' se mi riesci qua perché non ci sto capendo una mazza io sinceramente boh quale è questo no ah è quello che non mi fai a montare il video ma andiamo bene guarda perché non ve lo da boh buolino niente da fare boh è strana sta cosa è questo no non è questo mannaggia a me e niente vabbè io devo riprovarlo da un modo chiudi ok speriamo bene che cavolo c'entra questo no vabbè qua c'è un frittese ma perché me lo metti proprio lì io non ho capito mica boh me lo sta mettendo in un'altra cartella che non capisco il perché boh vabbè che cavolo c'entra boh io non lo so perché me lo metto in un'altra cartella boh boh mettiamo se stavolta ci siamo ma non credo ah forse ok speriamo bene stavolta che non ne posso più veramente di questi video che non riesco a più a montare boh eh vabbè e ci siete stati un po' di più con me allora questo cos'è? ah ho capito no io voglio quell'altra ovvero questo ovvero questo non l'altro google questo google diverso che ce la fa? allora perché? ma allora un po' qua ok va bene e niente adesso sto provando ad esportare il video il video se ci riesco a non esportarlo a salvare il video nel senso di l'audio perché l'audio tante volte non funziona non capisco il perché e ci dovrei riuscire le luci già vi avviso non è dei migliori in questo video che sto per pubblicare io tra poco non so quanto riuscirò a a come dire non so quanto riuscirò a a far vedere la tutta la luce che c'è perché oddio cos'è sta roba? perché non parte? perché fa così? ok mi sto spaventata mi sembra che sta guardando via la la cosa come si chiama? la luce della come dire la luce del computer invece è stato io mollato vabbè non commento intanto ho aperto la finestra ragazzi perché c'è un buio allucinante c'è molto buio come in questo caso di questo video qua c'è un buio bruttissimo non è molto buio il gelato però non è il buio cioè non c'è la luce che c'è in questo video con cui sto registrando che c'è la ring light eh grazie mie è così vabbè quanto si sta mettendo? allora sono già vi anticipo che in questo video saranno 19 minuti e 44 secondi di registrazione ma non ho senso di tagliarlo quindi ve lo acchiappate così com'è e vabbè anche questo video che sto registrando in questo istante sarà un bel po' lungo ma vabbè ce lo facciamo piacere così com'è a me piace registrare i video e poi non so a voi se vi piace guardare lunghi o corti però vabbè adesso qua voglio guardare se ok si aspetta un attimo non